Sono necessari interventi urgenti per mettere in sicurezza le imprese della filiera vino. Il lockdown della ristorazione e il rallentamento dell'economia a causa del Covid-19 mordono pesantemente il comparto vitivinicolo che in Campania stava vivendo un periodo di crescita costante sia sul mercato nazionale che internazionale. Così il vicepresidente nazionale e presidente regionale della Coldiretti Gennarino Masiello che attraverso una nota sottolinea che l'organizzazione ha sollecitato l'Unione Europea a rispondere all'emergenza attraverso l'approvazione di tre regolamenti che prevedono prime importanti misure di sostegno come la distillazione per produrre disinfettanti, la vendemmia verde, le proroghe per ristrutturazione e reimpianto. Il comparto vino della Campania dovrà prepararsi a un nuovo scenario e per Gennarino Masiello occorre lavorare fin da subito a formule innovative per reggere su un mercato ormai stravolto definitivamente. Le nostre cantine devono sfruttare al massimo le nuove tecnologie, gli strumenti del web marketing, i social network e la lezione che dobbiamo imparare dal coronavirus.